Sono Marina Salada e vengo al Bontà da 5 anni, dove porto tutti i miei prodotti della mia enoteca, vale a dire alimentare e vini. I miei prodotti sono tutti naturali, da agricoltura biologica o comunque senza conservanti, senza coloranti, agricoltori un po' in tutta Italia. Faccio questo lavoro da anni, per cui seleziono prodotti di nicchia un po' in tutta Italia, anche all'estero e anche noi vini cerchiamo di avere una cura adesso di vini naturali, senza solfiti aggiunti o comunque da agricoltura a volte biologica, biodinamica. Al Bontà ogni anno, in questo periodo, appunto portiamo questi prodotti per il fatto che il Bontà comunque è una vetrina dove la gente assaggia i prodotti che poi verrà a acquistare il negozio per il Natale. Noi abbiamo comunque del riscontro per il fatto appunto che abbiamo la possibilità di far assaggiare alle persone tutti i nostri prodotti, non tutti chiaramente perché quelli comunque che riusciamo, per poi far riconoscere alle persone.